Le fiamme, che da ieri divampano in territorio di Retano e che hanno devastato le campagne delle contrade Giordano, Donna Luna, Saia, Zucco, questa mattina hanno minacciato anche il centro abitato del piccolo borgo collinare. Sospinto dal forte vento di Scirocco, il fuoco è avanzato in perterrito, fino ad arrivare alle porte di Retano, ad una mangiata di metri dalle abitazioni. A fronteggiare il rogo che incombe sul piccolo borgo gli agenti del corpo forestale del distaccamento di Mistretta, che stanno coordinando i lavori insieme ai vigili del fuoco volontari del distaccamento di Santo Stefano di Camastra e un nutrito gruppo di volontari della protezione civile dell'associazione ERA di Mistretta. I vigili del fuoco si sono preoccupati di cercare di mettere in sicurezza le case, che sono state minacciate dall'incendio e la cintralina del metano. In azione anche due canader, che dalle prime ore del mattino stanno provando a domare il rogo. Alcune famiglie sono state evacuate e dopo aver limitato i danni nella parte alta del paese, adesso i soccorritori si stanno concentrando sulla parte bassa, dove le fiamme stanno minacciando seriamente le abitazioni e i canader continuano a gettare acqua sul fuoco, che sta praticamente distruggendo tutto, dalle coltivazioni alle campagne. In pratica Retano è circondato dal fuoco. Le fiamme hanno lambito anche il ciglio della strada statale 117 per circa 4 chilometri. A presidare la zona anche i carabinieri di Mistretta, che per garantire la sicurezza e l'incolumità degli automobilisti hanno chiuso al transito la strada statale 117 fino alle ore 12 circa. Un altro incendio è divampato nella provinciale tra Pettineo e Motta da Fermo. La situazione si sta facendo molto grave e anche qui il transito delle automobili è stato bloccato. Il fuoco sta distruggendo molti alberi di ulivo. Ieri c'è stato anche un altro rogo in territorio di Tusa, che ha lambito delle villette sulla strada statale 113. L'intervento dei vigili del fuoco e del corpo forestale ha fatto sì che il fuoco fosse domato intorno alla mezzanotte. Tanti i danni comunque causati dall'incendio. L'unica speranza è che il vento di Scirocco non soffri più, perché con queste condizioni climatiche limitare le forze del fuoco diventa pressoché impossibile. Intanto si sta indagando sull'origine di questi roghi, anche se è sospetto più che fondato che siano tutti di natura dolosa.